Il sale te l'ho dato La luce non ti manca Il detesivo te l'ho messo Ho una mano della DL che aveva fastidio e te l'hai spostato Ho un rubinetto dell'acqua e te l'hai aperto Ho un programma che ti è morto e te l'hai messo Che cazzo ti manca? E dice che non vuoi faticare? Voglio fare te piuttosto, tu o io? Puoi zittare anche i movi per un lavoro Hai ragione che è pesante e non ti puoi zittare la coppa a baccia Mannaggia la vasta vigna a chi l'ha inventato Riccinellati troverai bene, tengono tutti gli elettrodomestici E piccane gli elettrodomestici Oh professora, dove sta? È assurdo Ragazzi domani devi andare al negozio di Patrizia, bisogna spolverare i sandi Stanno chini di polvere Non posso, devi andare con la signora Gazzanica Tu non vai da nessuna parte, tu fai quello che ti dico io E se ti ho detto che domani vai al negozio di Patrizia, tu domani vai al negozio di Patrizia Sì, e invece vai alla manifestazione Quale manifestazione? Domani è la manifestazione della donna E che c'entri tu con le donne? Quando faranno la manifestazione della cameriera andrai tu pure Abbracciona la signora Gazzanica, sei fallo pratica Fallo? Pratica E che significa? Significa che sei pratica, ma sei pure prepotente Dice sempre fallo 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 E poi già fa tutto coso Secondo me la signora Gazzanica ti sta guastando State accorto? Sì vabbò Cavaliere scusate Mi devo spostare che devo asciuttare sotto a voi Salvatore? Salvatore? Il cavaliere sta fritto e fritto Sì vabbè